facciamo un passo indietro e torniamo al tempo del congresso di vienna in quell'occasione tra le varie decisioni prese nella sistemazione dell'europa i 39 staterelli erano stati riuniti in una confederazione tedesca presieduta dall'impero austriaco quegli stati però avrebbero voluto appartenere ad un unico stato e soprattutto essere indipendenti dall'austria un primo passo in questa direzione fu fatto nel 1834 si misero d'accordo di lasciar circolare liberamente le merci su tutto il territorio tedesco eliminando i dazi chi si avvantaggiò maggiormente da questa situazione fu la prussia che peraltro aveva già cominciato qualche anno prima che poteva acquistare grandi quantità di ferro e carbone a prezzi convenienti e questo le permese di dare inizio ad una veloce rivoluzione industriale con l'ascesa al trono di guglielmo primo nel 1861 la prussia diventa così uno stato molto forte sia dal punto di vista economico che da quello militare guglielmo primo aveva un progetto voleva unificare tutta la germania ma per fare ciò bisognava liberarsi dell'austria da qui l'idea di proporre un'alleanza all'italia che a sua volta aveva tutto l'interesse a scacciare gli austriaci dal suo territorio la prussia avrebbe attaccato l'austria da nord e l'italia invece da sud quindi con la solita manovra atenaglia per così dire in caso di vittoria gli italiani avrebbero ottenuto finalmente il veneto il governo italiano accettò e nel giugno del 1866 scoppiò la guerra austro prussiana che per noi diventò la terza guerra di indipendenza la guerra fu velocissima durò solo qualche settimana i prussiani vinsero la battaglia decisiva fu quella di sadova l'italia invece venne sconfitta venne sconfitta a custoza e venne sconfitta anche nella battaglia navale di lissa l'unico che riuscì a riportare delle vittorie importanti e a conquistare dei territori fondamentali intorno alla zona di trento fu garibaldi malgrado le sconfitte italiane i prussiani che avevano comunque vinto la guerra onorarono i patti e costrinsero l'austria a cedere a consegnare il veneto all'italia ma l'impero austriaco pose una condizione che fossero liberate proprio queste zone che erano state conquistate da garibaldi questo è il il testo del telegramma che il generale la marmora che era il capo dell'esercito italiano mandò a garibaldi considerazioni politiche esigono imperiosamente imperiosamente significa che non c'è nulla da discutere questa cosa va fatta e va fatta subito la conclusione dell'armistizio per il quale si richiede che tutte le nostre forze si ritirino dal tirolo quindi garibaldi malgrado avesse combattuto valorosamente e fosse stato anche ferito dovette velocissimamente lasciare i territori conquistati in mano agli austriaci questa è la copia del famoso telegramma con cui garibaldi conferma di aver ricevuto l'ordine e risponde con una sola parola obbedisco quindi in pratica l'italia si annette il veneto ma in realtà la zona di trento e tutto questo territorio la zona di trieste e tutto questo territorio rimangono in mano all'impero austriaco gli italiani percepiscono questo come una una sconfitta alla fine anche perché queste zone rientrano nei confini naturali dell'italia ed erano abitate da italiani da questo momento in poi ci si riferirà a queste zone col nome di terre irredente cioè appunto non liberate ma torniamo alla prussia la prussia vittoriosa aveva riunito sotto di sé tutti gli stati del nord e gli stati del sud che si erano liberati dell'impero austriaco avevano formato una confederazione indipendente la prussia era diventata uno stato ancora più forte ma soprattutto si sapeva che anche gli altri stati tedeschi quelli del sud prima o poi si sarebbero uniti alla prussia non solo ma che la prussia era molto interessata a due regioni francesi l'alsazia e la lorena se la prussia avesse coronato questo sogno beh l'europa avrebbe visto la nascita di una superpotenza a luigi napoleone anzi mi correcco all'imperatore napoleone terzo perché dal 1852 il presidente napoleone era diventato napoleone terzo imperatore di francia questa prospettiva prussiana non piace e quindi decide di giocare in anticipo e di attaccare la prussia di dichiarare guerra alla prussia ma ha fatto male i suoi conti la guerra viene dichiarata il 19 luglio del 1870 ma già il 2 settembre a sedan napoleone sarà sconfitto quindi un'altra guerra velocissima napoleone quindi si arrende e si consegna all'esercito prussiano questo è uno stralcio della lettera che napoleone terzo manderà tramite un suo ufficiale al capo delle truppe prussiane i francesi appena ricevuta la notizia della sconfitta di napoleone terzo proclameranno nuovamente la repubblica invece la prussia come da progetto si annette gli stati del sud stati tedeschi della confederazione indipendente e si prende anche ovviamente l'alsazia e la lorena non solo ma guglielmo primo viene proclamato kaiser cioè imperatore del secondo reich e questa incoronazione viene fatta a versailles quindi una sorta di ulteriore umiliazione nei confronti dei francesi l'uscita di scena di napoleone terzo gioca però a favore anche di un altro paese dell'italia se ti ricordi era proprio napoleone terzo che difendeva il papa e quindi di fatto impediva l'annessione di questo territorio al regno d'italia con il sovrano francese però uscito di scena la strada per roma diventa libera il 20 settembre del 1870 quindi appena una ventina di giorni dopo la sconfitta francese di sedan un reparto di bersaglieri dell'esercito italiano riuscì ad aprire una breccia attraverso una delle porte della città porta pia e dentro a roma annettendola al regno d'italia questa è la riproduzione della prima pagina di un'edizione straordinaria di un quotidiano dell'epoca che dà appunto la notizia il papa reagisce malissimo malgrado il governo italiano nel 1871 emani la legge delle guarentige guarentige significa garanzie cioè in pratica lo stato italiano voleva garantire al papa un trattamento equo queste leggi cosa dicevano intanto che lo stato italiano e riconosceva l'esistenza dello stato vaticano assolutamente indipendente che questo stato comprendeva alcuni possedimenti come i palazzi vaticani laterano castel gandolfo e altre proprietà sparse sul territorio riconosceva il papa il diritto di avere delle guardie armate che poi sono le famose guardie svizzere che ci sono ancora oggi e in più garantiva una entrata annuale abbastanza cospicua a mo' di risarcimento ma il papa rifiutò non aveva nessuna intenzione di riconoscere lo stato italiano anzi si dichiarò prigioniero di uno stato che appunto secondo lui era frutto di usurpazione e addirittura scomunicò vittorio emanuele e tutta la famiglia savoia la cosa più grave però fu ribadire ciò che aveva già detto un paio d'anni prima con la bolla non esprimente pedit cioè non conviene e cioè ribadire ai cattolici che non conveniva andare a votare cioè i cattolici italiani non avrebbero dovuto in alcun modo partecipare alla vita politica dello stato perché in questo modo avrebbero riconosciuto la legittimità della sua esistenza anche questo ovviamente renderà difficile creare l'unità perché l'italia all'epoca era un paese profondamente cattolico in qualsiasi caso nel luglio del 1871 roma diventerà la capitale del regno d'italia e con questo atto possiamo dire che il risorgimento italiano è raggiunto al termine è un'altra partecipazione che è un'altra partecipazione